Una startup per avere successo, da un mio punto di vista, deve avere sostanzialmente due cose molto importanti, che sono legate entrambi al team imprenditoriale, ovvero vision, la visione quindi di individuare una proposta di valore che sia in grado di creare e catturare valore sul mercato e soprattutto la capacità di execution. Io penso che la capacità di execution di un team imprenditoriale sia la vera chiave del successo di una qualunque startup. Grazie